Buon lavoro a tutti. La prima parola della settimana è genitori. 10.800 euro per i primi tre anni di vita del proprio figlio e sesto mese di maternità retribuito al 100%. Dove accade? Accade a One Day l'azienda con sede a Milano dove lo smart working è senza vincoli. Tante altre le opportunità per i neogenitori come il congedo per i neopapà di un mese o la possibilità di portare in ufficio il proprio figlio. La seconda parola chiave della settimana è smart working. Cresce la platea in Italia lo dice l'osservatorio del Politecnico di Milano. Nel 2023 3,5 milioni di smart workers in Italia. Nel 2024 si prevede che gli smart workers arriveranno a 3,6 milioni. C'è da lavorare sul fronte delle micro e della pubblica amministrazione dove nel 2023 gli smart workers sono diminuiti. La terza e ultima parola chiave della settimana è mobilità urbana. Si è chiuso ieri a Rò il salone del ciclo e del motociclo. Preso d'assalto anche il padione 18, quello dedicato alla mobilità urbana. Due ruote a pedali o a motore è la soluzione proposta dalle case di produzione per spostarsi in città. Dunque facciamo in modo che in città le strade per le due ruote siano sempre più sicure. Buon lavoro a tutti!